Tu lo sai che questo qui, dopo la basilica di San Pietro, questa è la chiesa più grande d'Italia? Però adesso silenzio perché andiamo, segno della croce. Visto qua, la gente da tutto il mondo. Ora qua andremo nella cripta. Padre Pio, dalla chiesa vecchia, dove stava, l'hanno portato qui per il semplice motivo che lì era troppo piccolo per tutta l'affluenza di persone che venivano a trovarli. Chi vuole vedere la tomba di Padre Pio deve venire qui a vederla. Però lì rimane sempre nel cuore nostro. Vattene per ieri. Io l'ho sempre detto, è la prima volta che sono venuto. Una delle piazze più belle che ho visitato e che ho visto. Veramente, è proprio bella. Tu vuoi proseguire, fra? Andiamo. Grazie.